Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione della Pianetlon, staffetta solidale finalizzata alla raccolta fondi a favore di Parent Project, un'associazione che accompagna i ragazzi affetti dalla distrofia muscolare di Duchenne e le loro famiglie. L'evento benefico organizzato da Panatron Pordenone e Sciclè Panorama si terrà sabato 7 ottobre lungo le vie del centro. Vi possono partecipare tutti, ma proprio tutti i cittadini che vogliono dare un piccolo contributo nella lotta a questa malattia che colpisce prevalentemente i giovani. La partenza della prima staffetta avrà luogo in piazza 20 settembre alle 16, alla presenza della campionessa olimpionica Manuela Di Centa, mentre l'ultima staffetta si concluderà alle 22. L'obiettivo nostro è quello di migliorare quella straordinaria esperienza che è stata quella del 2022. L'anno scorso hanno partecipato a questa manifestazione 120 squadre per un totale di 720 persone e siamo stati raccolti 14.500 euro che sono stati devoluti alla ricerca per la Duchenne. Quindi l'obiettivo di quest'anno è di riuscire a fare meglio sia nel numero di squadre ma soprattutto nell'ambito della raccolta dei fondi perché, ripeto, è una staffetta benefica. Quello che è importante è esserci e partecipare. Non è importante quanti giri, quanti chilometri si fanno in questa staffetta. L'importante è essere solidali in questo straordinario progetto. Questa manifestazione, questo evento che verrà fatto il 7 ottobre con l'inizio alle ore 16 fino alle ore 22 in centro città con un percorso di 1800 metri dove si vedranno anche le bellezze di questa città è finalizzato anche a contribuire per la ricerca di questa Duchenne che purtroppo c'è tra i nostri ragazzi e tra i più giovani e dunque mi rivolgo proprio ai cittadini di Pordenone ma anche oltre Pordenone di partecipare perché tutto l'incasso delle iscrizioni andrà devoluto alla ricerca per vedere se riusciamo a debellare questa malattia o quant'altro. Le squadre sono di 6 persone, l'iscrizione è risoria, 10 euro a testa ma si sta insieme per 6 ore in centro Pordenone. Chi vuole correre può correre ma chi vuole camminare può camminare. Dunque è aperta veramente a tutti, a piccoli e grandi, giovani e vecchi in pratica e dunque la partecipazione è un dato che connota Pordenone, città attenta anche alla ricerca. Ecco noi vorremmo che tutti partecipassimo a questa manifestazione, a questo evento proprio per rendere felice anche quelle persone che purtroppo hanno questa malattia per cui carico, partecipate il 7 ottobre dalle ore 16, l'iscrizione si può fare anche mezz'ora prima a questa benissima secondazione del PNTLON di Pordenone. Per iscriversi online e rimanere aggiornati sul programma www.panathlon-fwg.it